Il programma è presentato da Buongiorno amici di Mr. Student, oggi siamo in compagnia del professore Antonio Mazzotti Benissimo professore, ci parli un po' di lei, che cosa insegna? Io provo a insegnare matematica e fisica, con quali risultati non lo so Perché dice così? Perché gli alunni, principalmente in questa classe, sono molto recettivi Qual è il suo peggior alunno? È un elenco lunghissimo, è difficile da fare E il migliore? In questa classe è un po' difficile trovare il migliore Però, dicendo, sono tanti bravi, sto scherzando Ci sono tanti bravi e tanti meno bravi Però, tutto sommato, va bene così E come mai in Italia la maggior parte dei ragazzi che frequentano il liceo scientifico non sanno la matematica? Beh, questa è poi una valutazione lunghissima Le motivazioni sono tante Sicuramente vanno ricercate nello sviluppo che ha avuto la scuola negli ultimi vent'anni Questo è certo E adesso passiamo un po' sul personale Hai mai fumato uno spinello? No Ci dica la sua più grande pazzia? Boh, nella sport sicuramente Ok, allora per oggi è tutto Un saluto ai nostri amici Grazie, buona giornata Il programma è presentato da Il programma è presentato da